Ah, sono riuscito a sopravvivere allo schianto, com'è possibile? Cos'è quella cosa là? È un'isola! C'è un'isola in lontananza! Proviamo a raggiungerla! Eccomi, quasi arrivato! Dai! Devo nuotare, devo... Devo nuotare! Nuota, 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 salta un po'! Devo nuotare, devo nuotare! Dai che ce la faccio ad arrivare all'isola! Dai che ce la faccio ad arrivare all'isola! C'è ancora uno squalo? No, 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 questo squalo mi vuole mangiare! Cambio strada! Wow! Secondo me... No, ci potrebbe essere anche un sacco di gente, dovremo anche combattere! Sarà un problema! Io adesso devo trovare una città dove stare... Trovare degli alleati, delle truppe, ho già delle armi, delle granate! Qua cosa c'è? Dobbiamo spaccare un po'! Uh, delle armi! L'arma leggentaria! Forse dovrei ammazzare questo squalo che mi dà fastidio! Ohia! Che male che mi ha fatto questo squalo! Non ho nemmeno un kit medico con cui curarmi! Spara, 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 spara! Ho finito la munizione, devo andare con la mia... Con la mia spada! Ah! Aiccia! Madonna mia, che male! Mangiamo la carne di squalo, forse mi curerà un po'! Sì, mi ha curato questa carne di squalo! Però sono messo male! Vediamo in questa... In questa catapecchia se c'è qualcosa! Wow! Un lanciagranate! Forse lascio questo mini-Uzzi, dai! Mi prendo... Mi tengo solamente un mini-Uzzi! Ok, adesso camminerò un po'! Cento... Cento... Sì? Sono saldata di una data... Sì, chi è che parla? Chi è che parla? Della mia frequenza radio? Di una data... Dove è? Chi è? Chi è? Chi è lei? Dov'è? Vicino a me? No, sta parlando della mia radio, forse! Sì, della mia radio... Cosa vuole da me? Quindi, mi dice che è sopravvissuto anche lei? Sì! Ma, ci conosciamo? No, non so chi sia... Comunque, cosa vuole da me? Vuole fare... Che ne so... Vuole fare un accordo! Un accordo! Vuole fare un accordo! Io mi sto dirigendo a Coney... Coney Crossland! Non si sente niente! Parli più ad alta voce! La mirada è un po' rotta! Mi stanno attaccando... Mi stanno attaccando... Non me ne frega che la stanno attaccando! Adesso se ne vado, se ne vada! Sì, passa e chiudo! Arrivederci, arrivederci! Non ho ancora trovato nessuna truppa amica! Io mi stavo dirigendo verso Coney Cross, come ho già detto! Questo corvo! Queste cornacche che mi danno sempre fastidio! Uh, questa carne è buonissima! Anche la carne di corvo è buona! Uh, ho trovato una bella barca! Non me ne frega di chi sia! La devo giusto guidare! Wow, c'è anche il turbo, sta barca! Va un po' male, eh! C'è anche la riva! Non so se va a riva! Non penso, perché è una barca! Wow! No, non va a riva! Diciamo, spara anche i razzi! Non sono adatto a questo tipo di barche! Però ho trovato un Mark VII! Potrebbe essere buono questo Mark VII! Forse dovrei scambiarlo con quest'altra arma! Però la K è anche più mirata, non lo so! Mi tengo entrambi, dai! Ci stiamo dirigendo giusto a Cros... Con i Cros... Ho sbagliato letteralmente strada! No, c'è un tornado! C'è un tornado! Tornadi non li voglio! Perché tutti i tornadi a me? Eh, lo scherzo è successo proprio per un tornado! Speriamo di stare andando nella strada d'usta! Dalla mappa non posso vedere perché non ho il GPS! I GPS non esistono ancora! Cioè, almeno esistono ma io non ne ho uno! Non lo possiedo un GPS! Provo a fare una scivolata! Wow! Ah, però... Ah, io ho preso fuoco! Costruiamo una scala! Vediamo... Sì, è qui davanti! Devo trovare armi e truppe! Se no... Ci sono delle persone! Ciao! Gli ho sparati perché magari mi volevano attaccare! E poi questo posto ormai l'ho conquistato! Vediamo se ci sono casse dorate! Casse leggendarie! Wow! Una cassa leggendaria qui! Delle cure non so se le voglio! Cure di questo genere! Ho trovato delle truppe! Uh, delle truppe ho trovato! Buone queste truppe! Però adesso non devo più andare a girare in questi posti! Apro l'ultima cassa! Uh, altre truppe amiche! Una pistola segnalatrice! Boh, vediamo! Wow! Vediamo se magari qualcuno mi vede! Dai che siamo quasi arrivati a Conic Roseland! Ne approfitto per farmi! Per bere un po' che sono assetato! Ho corso un bel po'! Ho corso un bel po'! Guida! Probabile che non mi ricorda come si guidi! Eh no! Eh no! Infatti non so come si guida! Ci ho preso la mano un po'! Non so! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh! Non mi spara! Non mi spara! Non mi spara! Devo scappare! C'è una ruota anche a terra! Devo scappare! Infatti qui siamo tutti nemici! Avevo sospetto che c'erano nemici eh! No no! I lupi no! I lupi no! Che poi mi accrediscono! L'ha investito il lupo! Devo scappare! Devo scappare! Devo abbandonare questo furgone per strada! Lo abbandoniamo qui! Dai prendiamo quest'auto! No anzi quest'auto non è adatta per queste zone! Ecco questo furgone forse è più adatto! No no! Basta li devo ammazzare! Aia! Andate via lupi! Brutti lupi! Ricarico! Dai me ne devo andare con questo furgone! Dove posso andare? No lupi 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 lupi! Devo tagliare di qua! Altri lupi non li voglio! Altri lupi non li voglio! Non li voglio! Ho trovato un dinosauro sapiens! Vai via! Ho trovato un dinosauro sapiens! Chiamato anche clombo! Vai via! Maggio un po' di carne! Questo clombo sapiens! Buongiorno! Ho trovato un clombo sapiens! Vabbè ti lascio qui! No mi voglio darti un bacino! Adesso me ne vado! No non mi ha auto! No! C'è il signore là! No no no! Aia! Non è ancora colpito! Ecco l'ho fatto esplodere! È morto! Colombo sapiens ti lascio! Anche quest'auto è rotta! Dove posso andarmi a rifugiare? Mi fermo qui e apro la mia cartina! Dai dai! Non ho anche nemmeno benzina! Dai vai vai! Carretto vai! Dove stiamo andando qui? Ci sarà una casa dove andare! Sì c'è una casa dove andare! È una casa anche abbastanza... C'è una Lamborghini! La mia auto è tutta rotta! Quindi preferisco una Lamborghini dalla mia auto rotta! Poi dovrò cercare anche proprio una mia zona! Non una casa semplice così! Proprio una bella zona dovrò cercare! Come loro che hanno la loro città! Wow! Forse è meglio che questo pompa me lo prendo! Questo specchio è un po' rotto! Ci dovrebbe essere un pieno di sopra! In teoria! La mia auto tutta fumante non è il massimo eh! Quante belle armi! Adesso... C'è anche quest'acqua me la devo sorseggiare! Forse voglio che quest'acqua la metti... Boh! Da qualche parte la devo mettere adesso! Ecco! L'acqua la mettiamo qui nel lavandino! Uh! C'è... No! No! Il cavallino li voglio! Voglio questi funghi! Che buoni questi funghi! No! No! Il mio letto! Si è rotto il mio letto! E fa niente! Tanto non c'è tempo per dormire! Qua c'è proprio una vetrata! Dovrei farmi anche una bella vasca! Però non ho tempo! Non ho tempo nemmeno di andare in bagno! Non ho tempo per fare niente! Però è una bella vista sul mare! Da cui sono arrivato! C'è una barchetta! Mi muto in mare! Vuoi fare una nuotata nel mare? Qua c'è una barca! L'avranno abbandonata! La mia bevanda preferita! Cosa? Chi è usato a sparare? No! Non mi dobbiamo sparare! Squalo! C'è anche lo squalo! Mi sparano e c'è anche lo squalo che dà fastidio! Quell'acqua mi serve! Muoio se non prendo quell'acqua! Un terremoro in generale! Non devo morirci! No! Ci sono delle truppe! Queste le riconosco! Sono le truppe del tipo che mi ha chiamato! Che mi hanno sparato anche prima! Ecco che mi sparava! No! 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 Ci sei! Cosa vuoi da me? Fermo! Ehi! 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 Vai in alto! Fermo! Sì! Non mi spari! Non mi spari! Non mi spari! No! No! Guardi che io sono nato qui! Ma! Io l'avevo vista su quell'errio! Butta l'arma! Metto la mia ascia di fiducia! Questa non è niente! È una spada finta! Dai! Fermo! La uso per spaccare un po' gli alberi! Giù! Giù! La mia ascia! La mia ascia! Non voglio farle del male! Da quanto tempo sono su questa isola? Fermo! Da un'ora che sono su questa isola! In realtà più di un'ora! Perché è da un po' che sto camminando! Sono arrivato! Sto arrivando dalla statua del tipo la muscoloso con la maschera! Com'è che si chiama? Molto famoso! Io non voglio avere nulla a che fare con te! Da The Rock! The Rock! Il tipo The Rock! Sa chi è! Ti dico! Arrivo dalla statua di The Rock! Ci saranno molte guerre! No! Mi sembra essere attento! Io sono arrivato! Oh! 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 Che mi è successo? Sono svenuto per un po' di tempo! Quel tipo era molto strano! Poi con quella maschera a gas! Boh! Non lo so! Io è meglio che rimango nella mia casa! E con l'auto la spostiamo prima che mi esploda davanti casa! C'è una barca affondata! Io sono messo molto male! Penso di avere qualche ossarotte! Ma con le mie doti da infermiere... Aiuto! Questa barca... Questa barca è molto danneggiata! Ho trovato un kit medico che usavo nel corso di cure! Meno male! Mi è servito un casino su quell'aereo! Non so più dove sia! Meno male! Meno male! Vado un attimo a casa a dormire! Siccome si sta facendo notte! Apro l'ultima chest! O di no ma l'ho trovata! Un po' di acqua! Da quanto tempo che non vedo l'acqua? Da un'ora che non vedo l'acqua! Dai, lasciamo una bottiglia là! Però potrei lasciare questo qui! Boh, lo verrà a riprendere dopo con l'arma! Nel frattempo andiamo a farci una dormita sul pavimento! Perché il letto ormai non ce l'ho più! Perché mi si sono sfondate tutte le assi! Quindi porto l'acqua al suo posto e poi vado a dormire! La mettiamo qui insieme alle altre! Vado a prendere l'ultima arma e poi dormirò! Dai, andiamo qui sotto a dormire! Qui c'è una panchina! No, una panchina! Una panca per far pesi non vuoi dormire lì! Vabbè, dormilo qui!